Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui in questo video dove andiamo a vedere come sta procedendo l'estrazione dell'humus di lombrico. L'estrazione dell'humus di lombrico partiamo da un presupposto che questa non è una vera propria estrazione dell'humus di lombrico perché prima bisogna estrarre i lombrichi, quindi prima estraiamo i lombrichi e poi estraiamo l'humus di lombrico. Qualcuno nei commenti mi ha scritto che questo sistema funziona molto bene se ci metti del lettame e io vi devo dire la verità, in questo preciso momento, quindi siamo intorno ad agosto settembre, io il lettame non ce l'ho a disposizione per poter utilizzare il lettame per fare questa operazione, quindi ho utilizzato degli sfalci di erba che comunque vedo che gradiscono molto e quindi per farvi vedere che gradiscono molto e vi faccio vedere il risultato. Io alzo qui la cassa, la poso qua, guardate quanti lombricchi ci sono, vi faccio una zoomata, vi faccio vedere proprio quello zoom, guardate che ci sono i lombrichi. I lombrichi cosa stanno facendo? Se noi li lasciamo all'aria vedremo che fra poco tempo i lombrichi cosa fanno? Iniziano a entrarci all'interno della cassetta quindi tranne qualcuno avremo sicuramente estratto i lombrichi. Ecco, poi questo qua è un procedimento che si fa ovviamente che si fa con pazienza, quindi funziona con pazienza. Ok, funziona con pazienza, quindi adesso io cosa vado a fare? Lo rimetto qui, così, tac. Allora, come faccio io di solito? Adesso scusate che sia un po' scomposta la cassetta ma avevo aggiunto materiale fresco ieri, materiale quindi erba che logicamente stava marcendo da due o tre giorni, stava decomponendo. Allora, come funziona questo sistema? Allora, questo sistema è molto semplice, si fa così, guardate. Si prende queste cassette con il foro largo come abbiamo detto, poi si mettono sopra qui, si riempie di materiale in decomposizione, quindi erba, sfalci d'erba, magari scarti di verdura che magari sono state maturate già magari una, due, anche due settimane, benissimo, sono state maturate anche dentro un bidone e si mettono qui. Poi si dà una bagnata, quindi l'ombrico sente che è umido e inizia a salire sulle cassette. Se io adesso inizio a spostare il coso qua, vedo che sulla cassetta ho i lombrichi e vedendo che sulla cassetta ho i lombrichi vuol dire che questo sistema funziona. Sono d'accordo con quello che mi ha fatto il commento, adesso non so dire, non mi ricordo il nome, ma comunque in generale sono d'accordissimo nel discorso che i letame sono più ghiotti di letame, sicuramente se io avessi messo le cassette di letame avrei avuto il risultato in pochissimo tempo, adesso ve ne faccio vedere un'altra qui. Vedete? Questa qui pesa già un po' di più perché c'è già più materiale decomposto, comunque più o meno il risultato è sempre questo, vedete i lombrichi stanno sempre salendo all'interno della cassetta, ecco, quindi non c'è grossa differenza. Comunque sotto, vediamo sotto la cassetta, adesso vi faccio una piccola ispezione per vedere quanti lombrichi ci sono, sì ce ne sono di lombrichi sotto la cassetta però diciamo che generalmente questo sistema mi sta dando gli ottimi risultati, quindi in poche parole, adesso vediamo che questi ci sono lombrichi, che l'altra volta le avevo visti, sì sì ci sono, ecco questo sistema comunque ci vuole tempo, ci vuole pazienza che i lombrichi salgano, ecco, così è molto pazienza, se no un'altra alternativa si potrebbe fare questo lavoro qua, dopo un mese di questa operazione qua si può tirar via i primi 5 cm da sopra e quindi esportare via i lombrichi e poi avremo il compost pulito, ecco, quindi questo è un pochettino il discorso che io ho fatto, ovviamente, cos'è che posso dirvi? La cosa più importante cos'è? Tenere umido il materiale che i lombrichi dovrebbero esserne molto ghiotti al suor dell'ultima cassetta, vedete? Vedete i lombrichi come stanno salendo all'interno? I lombrichi stanno salendo veramente bene, ce ne sono tanti, comunque è un'operazione molto, o sì, c'è un'operazione che si fa molto con calma perché ovviamente il discorso è che bisogna abituare i lombrichi alla nuova lettiera, bisognebbe aver avuto già una lettiera già decomposta male da un mese e allora gli lombrichi sarebbero entrati sulle cassette molto più velocemente, però già utilizzando questo sistema qui io vi devo dire che funziona veramente bene, ovviamente se avete la possibilità di avere delle letame, quindi magari non so avere due secchi di letame, sicuramente funzionerà molto meglio, ecco. Poi altre alternative sono sempre scarti di verdura, prendete un secchio, lo forate tutto, lo forate sul sotto, lo appoggiate sopra due mattoni con il suo coperchio, mettete all'interno tutta la verdura e quindi la verdura inizierà a macerare, quando la verdura avrà macerata un mese la potete introdurre qua all'interno, ovviamente la verdura macerata avrà molto, 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 come ti posso dire, avrà molta più, la verdura macerata avrà molta più, come posso dire, sì, avrà molta più, come si dice, sarà molto più attratta dai lombrichi rispetto a mettere scarti di verdura fresca, perché ho visto che se mettiamo la verdura già decomposta i lombrichi sono molto più attratti e quindi vanno già molto più a mangiare, ecco, sono molto più ghiotti. Ovviamente possiamo fare anche il sistema di fare una compostiera a parte, mettere lì, lasciare a macerare un mese e poi introdurre all'interno della lombricompostiera, ecco, sono cose che ognuno decide, io adesso sto usando l'erba perché ovviamente in questo periodo sfalci di erba ce ne sono veramente tanti, l'erba si decompone in pochissimo tempo e quindi i lombrichi la vanno a mangiare, vedo che sono anche molto ghiotti, sono molto ghiotti anche di erba i lombrichi, quindi non, diciamo, non c'è niente, ecco. Io ovviamente ci tengo ad aggiornarvi, ovviamente è un sistema molto più lento rispetto a togliere i primi 10 centimetri, tirare via i lombrichi e ripartire col compost, ma comunque così preserviamo la loro vita, quindi non li andiamo a ferire con palette, con forche, vanghe o altre cose del genere, ecco, comunque preserviamo molto di più la loro vita, quindi preserviamo molto di più i lombrichi come animale rispetto che andare a, come si dice, rispetto che andare magari a scavare sopra con delle forche che mai ne rompiamo parecchie, comunque i lombrichi più in tutto sono la fonte di vita. Poi dobbiamo renderci conto che se quando noi andiamo a estrarre il humus, all'interno dell'humus che noi andremo magari a tenere da parte in un secchio o da qualche altra parte, andremo a tenerci da parte per utilizzarlo, non so, nei nostri vasi, nei nostri cassoni o metterlo dove ci para noi, ci sono dei lombrichi, non è un problema, perché ovviamente i lombrichi non li uccidiamo, comunque li teniamo all'interno insieme all'humus, se proprio capita qualche lombrico, poi quando lo metteremo nei cassoni ovviamente i lombrichi continueranno a vivere, mangeranno mai la foglietta che si sta decomponendo, quindi praticamente non facciamo del male ai lombrichi, non è che li dobbiamo insacchettare nei sacchetti di plastica e vendere, quindi sicuramente quando porteremo il lombrico che magari farà 500 km di strada o robe del genere, il lombrico sarà morto, non è questo. Ecco, questo è quanto voglio dirvi io, ci tengo a dire queste cose qua, perché comunque questa è la mia prima esperienza con la lombrico compostiera, comunque vi devo dire che l'alimentazione comunque di lombrichi è semplice, come alimentiamo la cassa grande, che mettiamo il materiale in decomposizione, la stessa cosa noi faremo qui, andremo ad alimentare qui dentro le cassette, ecco, ovviamente la bagnatura dipende molto a quanta temperatura fuori, ma diciamo che l'umidità dovrebbe essere intorno all'80%, dicono generalmente, però se noi bagniamo qui in tutto, qui gli diamo 5 litri di acqua, siamo più che sufficienti, ecco, andiamo a inumidire la cassetta e i lombrichi saliranno molto più facilmente, ecco. Comunque più materiali decomposto abbiamo, cioè più del materiale composto c'è a disposizione da mettere sulla cassetta, più velocemente sarà l'estrazione dei lombrichi. Poi ovviamente cosa faremo secondo step, ovviamente ci sarà il video, prenderemo queste cassette qui, le svuotiamo all'interno di un contenitore grande, all'interno di un contenitore grande, comunque ci saranno all'interno dei contenitori ci saranno i lombrichi più la loro lettiera, noi estraiamo tutto il compost, ripuliamo la vasca da tutto il compost, che lo metteremo ad asciugare, poi svuotiamo le casse all'interno, svuotiamo il secchio dove abbiamo tenuto i lombrichi mari per un giorno, lo risuotiamo all'interno qui e iniziamo ad alimentarli e diciamo che si riavvia il ciclo della produzione dell'umus di lombrico, ecco. Niente, spero di avervi dato dei consigli, vi ho fatto vedere perché comunque questo sistema funziona benissimo, ve l'ho fatto vedere, ci vuole tempo e pazienza, però comunque vedo che sta portando molti frutti, io alimento circa una volta a settimana con circa 5-6 cm di erba sfalciata o in questo caso, ma potrebbe essere anche magari, potrebbe essere magari anche scarti di erba, ecco. Niente, per questo video è tutto, spero di esservi stato utile, avervi dato questi piccoli consigli che secondo me sono consigli utilissimi e niente, buona estrazione dei lombrichi anche a voi, buona lombricompostiera e niente, da Paolo Fiat è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti amici!